Strategie di seduzione infallibili per conquistare un uomo. Quali sono queste strategie di seduzione infallibili per conquistare un uomo? Allora, la prima cosa che devi fare è entrare in rapport con questa persona. Quindi all'inizio fai un po' la gatta morta, all'inizio fai un po', come dire, quella che, diciamo, si mette a complementare alle sue esigenze. Tanto l'importante è che, qua sto distruggendo tutto, l'importante è che non gliela dai, perché se gliela dai fai solo dei casini. Tra un po' tiravo giù la lampada. Se gliela dai fai solo dei casini. Non devi darla, devi semplicemente entrare in empatia emotiva con questa persona. Questo è il punto fondamentale. Quindi ricalca i suoi valori, ricalca le sue credenze, usa il suo stesso stile di linguaggio. Mettilo un po' su un piedistallo, mettilo un po' su un piedistallo, in modo tale che si ringaluzzisca. Poi quando te la chiederai, ovviamente devi essere femminile, non devi essere un puttanone da corsa, devi essere femminile, perché i puttanoni da corsa non attraggono, ma, come dire, vengono, come dire, sfanculati, di solito, fatti rimbalzare. Ecco, quindi questo è il primo punto fondamentale. Una volta che tu hai fatto questo, vedrai che lui dimostrerà interesse per te. Dimostrerà interesse per te. A quel punto lì devi farlo aprire. A quel punto lì, seconda fase, fallo, fallo, fallo parlare. Fallo parlare e dici, mi piacerebbe, raccontami. Poi fai delle domande soft, ma come è stata la tua infanzia? Raccontami una cosa bella, una cosa brutta della tua vita. Insomma, chiedi delle cose in modo ambiguo, così, ma in modo tale che lo porterai in qualche modo ad aprirsi. Magari non ti racconterai inizialmente tutta la verità, però se le domande sono generali, poi sai che invino veritas, come dire, e le cose vengono fuori. Tra l'altro, nel momento in cui la sua parte inconscia capisce che tu sei disposto ad ascoltarlo, questa persona la parte inconscia lo spingerà ad aprirsi, perché noi godiamo nell'essere, diciamo così, spigolati, spungolati, nell'auto-affliggerci, diciamo così, dei tormenti, dei turbamenti. Lo facciamo perché la nostra sfera emozionale gode di tutto questo, no? Quando gli vengono date delle tensioni emozionali, la nostra sfera emotiva gode di questo. E allora vai a stimolare proprio questi punti, e andando a stimolare questi punti, riuscirai a, come dire, a capire quali sono i suoi turbamenti, quali sono i suoi punti deboli, quali sono le sue sofferenze. E ovviamente qui vale la regola fondamentale che le sofferenze vanno amplificate, non vanno chiuse, perché più tu gli amplifichi le sofferenze, più lo farai sbiellare, lo farai innamorare. Capra, che non sei altro, che invece hai sempre fatto il contrario, l'hai sempre adulato, ti amo, ti amo, ma io lo amo, ma io lo amo, perché sei una caprona, perché così non riesci a sedurre nessuno. Invece tu devi, devi ovviamente necessariamente amplificare completamente quelle che sono le sue esigenze, e una volta che l'hai attratto devi mostrarti disinteressato. Questo è molto importante, mostra disinteresse, perché se mostri disinteresse è calibrato. Insomma, altalenante, un po' dai, un po' togli, un po' ti dimostri interessato, un po' disinteressata. Ma soprattutto godi di te stessa, concentrati su te stessa, mantieni la forza su te stessa, perché soltanto se riuscirai a mantenere, diciamo, la tua forza, soltanto se riuscirai a mantenere l'energia su te stessa, riuscirai a ottenere dei risultati. Questo è veramente fondamentale, questo è veramente importante. Dimostrati sinceramente disinteressata, cioè diventa sinceramente disinteressata. Evita di metterlo sul piedistallo, anzi, trattalo come una merda se ti è possibile. Insomma, fallo sentire ignorante, fallo sentire squalificato di fronte agli altri. Evita di inseguirlo, ma anzi allontanati gradualmente. Più ti allontani gradualmente, meglio è. Allontanati sia col verbale, cioè non rispondeli, ma anche col non verbale. Quando interagisci, insomma, fai finta di essere distratta, fai finta di essere annoiata, sbadigliali in faccia! E questo è molto importante, sbadigliali in faccia se vuoi sedurlo. Allontanati direzionando la sua attenzione, la tua attenzione altrove, cioè fai finta che sei interessata ad altro, cioè non dimostrargli nessun interesse. Ecco, fai questo e vedrai che si innamorerà. Fai questo e vedrai che si coinvolgerà e poi ovviamente devi anche gratificare. Le gratificazioni devono avvenire quando gli darai un po' di stima, di considerazione. Però nel momento in cui tu avrai amplificato i suoi turbamenti, avrai capito se devi essere, questo è un altro punto fondamentale, più materna. Questo è molto importante perché se sei più materna, se sei più interessante, riuscirai a ottenere dei risultati. Alle volte invece devi essere più penalizzante, più bacchettante, più paterna. Ecco, questo è una qualcosa che devi capire andandoti a vedere i miei video, caprona, tutti i miei video sulla comunicazione non verbale che ne ho fatto, malgasciona che non sei altro. Vatti a vedere tutti i miei video che ho fatto sulla comunicazione non verbale e riuscirai a ottenere dei grandi risultati. E in questo modo è veramente certo, sicuro, al mille per mille che lo farai innamorare. Iscriviti al mio canale YouTube Massimo Terramasco e attiva la campanella così riceverai la notifica dei miei video. Iscriviti anche a tutti gli altri miei canali. Crescita personale con Massimo Terramasco e il nuovissimo canale Esoterismo e Spiritualità con Massimo Terramasco. Attivando la campanella così riceverai anche la notifica dei miei video. Ma non dimenticarti di seguirmi anche su Instagram e su TikTok, perché è fondamentale anche Instagram e TikTok. Bene, per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo.